Chaos Group ha lanciato Cosmos, una galleria di oggetti pronti per il rendering direttamente all'interno di SketchUp. Abbiamo infatti con questo aggiornamento 5.1 di V-Ray questo nuovo pulsante Chaos Cosmos che apre questa libreria di oggetti di vario tipo dall'arredo, accessori, lighting, vegetazione, persone, veicoli. Basta un clic sull'oggetto di nostro interesse, quindi un clic nel pulsante di download e quindi andremo a collocare l'oggetto all'interno della scena. Sono oggetti pronti per il rendering. Vediamo rapidamente un rendering interattivo. Ci sono anche mappe HDRI per l'illuminazione della scena, oggetti di vario tipo, tutti pronti per il rendering. Sono oggetti di ottimo livello di dettaglio con i materiali pronti, le luci hanno anche le appunto sorgenti di illuminazione già attivate. Un bel passo avanti per l'utilizzo di V-Ray all'interno di SketchUp veramente utili per completare i nostri modelli e rendere ancora più realistici sempre più velocemente i nostri rendering.